Giulietto Chiesa, direttore di Pandora TV e altro, la situazione mondiale, politica, sociale, è grave. Noi vogliamo sapere da te il tuo pensiero, ma anche un pensiero che deriva da indagini che tu fai sempre sul tuo campo giornalistico, soprattutto della politica estera. Iniziamo da questo. Noi siamo rimasti sconcertati da un rapporto del Pentagono, sappiamo che c'è altro, che tu ci dirai, dove senza sé e senza ma, questo rapporto che risale all'anno scorso, credo al novembre, dice ci sarà una guerra imminente. Ovviamente il Pentagono degli Stati Uniti d'America quando parla di una guerra imminente non si riferisce a una guerricciola, una guerriglia, parla di qualcosa di serio. Se ci puoi parlare di questo intanto. Sì, diciamo che lo sviluppo degli eventi è perfino più rapido del fulmine, diciamo, perché non fai tempo a scoprirne una che ne scopri altre che si innestano su questo filone del ragionamento. La situazione sta peggiorata in modo visibile. L'ultimo documento che ho, tra l'altro, l'altro ieri proprio avuto, mi è stato inviato da un mio lettore, non l'avevo visto. Questo è un documento molto articolato, 120 pagine, praticamente è una summa della nuova visione della strategia americana, la quale senza mezzi termini, come dicevi tu, ci comunica che loro ritengono che lo scontro con la Russia e con la Cina si verificherà intorno al 2024. Cioè, collocano l'andamento dello scontro mettendo insieme tutti i fattori, si tratta di, diciamo così, dei vertici militari della più grande potenza del mondo, le quali fanno la loro analisi mettendo insieme tutti i fattori, non sono dei, come dire, degli improvvisatori. Io lo dico in termini sintetici, ma loro ci hanno pensato molto e hanno fatto confluire in questa analisi i risultati di tutta una serie di dati che hanno a disposizione. Se loro vedono che i vettori, supponiamo, immaginiamo che ci siano tanti vettori che modificano la situazione, che si muovono, se loro vedono che i vettori convergono in un punto di scontro, beh, questa è una cosa da prendere sul serio. E sono cinque anni, praticamente. Ci dicono che fra cinque anni la probabilità è talmente evidente, talmente forte, che li induce a pensare che il nostro sistema difensivo a quel momento deve essere quello. Dico nostro perché noi facciamo parte della loro alleanza, diciamo, i loro sudditi. Questo dice tutto, nel senso che non ci resta che studiare il perché questi dicono. Cosa teme il pentagono. Perché pensano questo e che cosa possiamo fare, soprattutto, se questa è la linea di tendenza. C'è una possibilità, qualcuno di noi, intendendo in senso lato, è in grado di capire se possiamo cambiare la linea di questi vettori. Perché non è una cosa piacevole. Loro stessi, in questo documento e in quello che hai citato tu, dicevano delle frasi molto impressionanti, cioè che il popolo americano deve fronteggiare perdite inimmaginabili per il popolo. Cioè, in quelli che pensano in questo modo, è già implicito che non sarà più una guerra tra eserciti, ma sarà una guerra dove verranno sterminati popoli interi. Quindi parlano del loro territorio. Parlano del loro territorio, esattamente. Dicendo, dobbiamo mettere in conto che noi avremo delle grandi, inenarrabili perdite. Cioè, si sta parlando di una guerra di sterminio mondiale. Certo. Quindi questo è il quadro. Ora, senti queste cose e dici, o sono pazzi, oppure hanno delle buone ragioni. Per dire, buone tra virgolette, perché è chiaro che uno che prepara questo scontro non può avere delle buone ragioni. Assolutamente. Diciamo, delle motivazioni. E le motivazioni sono, anche queste, molto visibili. Noi andiamo verso una situazione di squilibrio, Il cui punto di partenza di ogni riflessione è questo. Il mondo contemporaneo è prigioniero di una macchina economica gigantesca, planetaria, la quale sta producendo, riduco all'estremo, sta producendo una polarizzazione estrema tra i ricchi e i poveri. Su scala planetaria, 7 miliardi e 300 milioni di persone sono sottoposte a una macchina, non so come dire, una macchina infernale, che sta asciugando le tasche dei più poveri, le tasche e la vita dei più poveri, e sta trasferendo su un numero sempre più ridotto di persone la ricchezza del pianeta. Già oggi noi sappiamo che 20, 30, 40, a seconda delle valutazioni, persone, dispongono di beni che sono equivalenti al 60, 70% di tutte le ricchezze della Terra, sopra, sotto. Cioè, com'è possibile che noi abbiamo una situazione in cui un piccolissimo gruppo di persone si impadronisce delle risorse vitali del resto della popolazione del pianeta? Questa è una delle cause di questa follia, perché se questi 50, 60, supponiamo che sia un milione, anche un milione, se un milione su 7 miliardi, 300 milioni, diventano così potenti da poter dominare non solo gli altri fisicamente dagli ordini, ma decidere se devono vivere o morire e come, nel caso che debbano vivere, come poter vivere, allora noi siamo in pericolo, perché questa gente non ha più limiti. Lo dico riflettendo a molte domande e osservazioni che mi vengono fatte, ma com'è possibile che qualche d'uno non si renda conto della follia di questa cosa? Non ci sarà un limite alle loro ambizioni. E la mia risposta è no, a quanto pare non c'è nessun limite. Allora, potremmo fare molte altre osservazioni, se vuole le facciamo. Sì, le facciamo con una domanda. Ho notato una specie di evoluzione in senso negativo, o mi correggi tu, della politica militare americana strategica. Mi spiego. Mi ricordo il tuo La guerra infinita, dove si basava, diciamo, si collocava come centro dell'attenzione della politica militare americana la guerra al terrorismo. Invece, adesso noto, se questo documento tu mi confermi che è reale, che viene proprio dal Pentagono, la guerra al terrorismo è finita. Adesso c'è lo scontro con i competitors, li chiamano così, Russia e Cina. Quindi che cosa è successo in senso negativo che addirittura la guerra al terrorismo è finita perché ce n'è un'altra da affrontare peggiore? In realtà la guerra al terrorismo è stata fin dall'inizio un bluff. Adesso lo sappiamo. L'11 settembre ha inaugurato una nuova fase che allora il presidente Bush definì una guerra che sarebbe durata un'intera generazione. Rumsfeld disse che cominciava una guerra infinita, ma era tutto un trucco. Era il trucco che serviva all'impero per sostituire il nemico rosso con un altro nemico. Rumsfeld, il segretario di Stato durante l'epoca Bush. Rumsfeld era il ministro della difesa. Entrambi dissero queste frasi subito dopo l'11 settembre, rivelando l'obiettivo che era quello di fare di questo un grande sostituto. Non c'era più il nemico rosso perché la Russia, l'Unione Sovietica era stata appena sconfitta, bisognava sostituirlo con un nuovo nemico per tenere compatto l'Occidente. Ma il problema era tenere compatto l'Occidente. I nemici erano sorrettizi, erano comunque nemici sottoposti al giudizio dell'imperatore. Che cosa è accaduto in questi vent'anni? E' accaduta una cosa per loro, per l'imperatore e per i suoi sudditi sconvolgente. E' apparso uno, anzi più interlocutori, che dicono che non sono d'accordo con quello che fa l'imperatore. E non solo, ma che possono dire di no concretamente all'imperatore. Il più grande di tutti, ormai sotto i nostri occhi, è la Cina. La Cina non è dominabile con un ordine. Non è più possibile ordinare alla Cina che cosa deve fare, perché la Cina non obbedirà. Gli interessi della Cina sono autonomi, differenti, contrastanti. Anche quelli della Russia sono differenti e contrastanti. Entrambi, per motivi diversi, asimmetrici se vogliamo, hanno però il potere di resistere all'impero. E' dunque l'impero che non è disposto, la chiave di tutto è che l'impero, cioè le classi dirigenti degli Stati Uniti d'America e di una parte rilevante dell'Occidente, non vogliono prendere atto che la situazione è cambiata radicalmente, strutturalmente. L'impero non è più un impero. E siccome i gruppi dirigenti dell'impero sono stati abituati da un secolo intero a dominare il mondo e siccome lo stanno dominando in modo sempre più rapace, ecco che appaiono delle contraddizioni che prima non c'erano. Prima il mondo era sotto l'unico dominio della più grande potenza del pianeta. Adesso il mondo non è più sotto quel dominio e per giunta è un mondo sempre più inquieto, sempre più consapevole, seppure in modo parziale, che è sottoposto a una oppressione economica, sociale. Quindi questo mondo diventa improvvisamente per l'imperatore, con la I maiuscola, diventa improvvisamente un mondo ingestibile, con la pace. Bisogna gestirlo con una guerra risolutiva che elimini gli avversari. Quello che abbiamo detto fino adesso questo significa. Però la domanda è ma come si può pensare una guerra totale senza pensare alle armi atomiche? Abbiamo avuto l'Unione Sovietica e l'Occidente quasi quasi alla terza guerra nucleare, nella crisi di Cuba, nel 1984 con Reagan, forse o senza forse in un certo senso fermato da Gorbaciov con la sua perestroica, ma poi c'è stato questo grande delirio vero, falso che sia, della pace nel mondo, il mondo finalmente è cambiato. Invece oggi come si può pensare nel 2020 a erigere, a scrivere un rapporto militare, della più grande potenza militare, parlando di una guerra imminente senza pensare a una guerra nucleare? Per quanto possa sembrare assurdo la risposta c'è, pensano di vincere, loro pensano di vincere. Io mi sono convinto di questo leggendo i loro documenti. Naturalmente quando pensano di vincere pensano che molti moriranno, ma loro non moriranno. L'essenziale è che la logica è quella di quelli che stanno su, di questi cento o mille o diecimila che governano il mondo. La logica è che loro sopravviveranno e vinceranno e quindi i tempi tornano. Io ho letto numerosi documenti, i tempi tornano sulle previsioni che loro fanno. Loro cosa stanno facendo in questo momento? Stanno predisponendo una situazione che consente a loro di impedire un colpo di ritorno in caso di attacco nucleare da loro scatenato. Stanno cioè organizzandosi in modo tale che ci sarà un momento in cui loro possono scatenare l'attacco, ma loro saranno in condizione di fermare la risposta. Quindi la contrapposizione MED, Mutual Assured Destruction, cioè la mutua distruzione assicurata, verrebbe in questo modo eliminata. Cioè io attacco, l'nemico viene annientato e io rimango vivo. Qualcuno, qualche missile partirà, ma moriranno 3, 4, 5 milioni. Che cosa vuoi che sia? Niente, niente, dal loro punto di vista niente. Quindi quanto tempo ci vuole per fare il sistema antimissile che li rassicuri? Loro hanno fatto i loro calcoli e stanno lavorando in questa direzione. Molto semplicemente lo stanno già facendo. Nel 2002 George Bush dichiara di uscire dal trattato antimissile balistico del 1972. Era il trattato che assicurava la parità. L'America è uscita unilateralmente, senza neanche discutere con l'interlocutore. Putin era già al potere e ne fu furibondo, ma colse l'occasione, cioè colse il pensiero. Cosa vogliono fare? Dopo le cose si sono chiarite, intorno al 2008, 2009 e 2010 ha apparso chiaro che gli americani stanno costruendo il sistema antimissile balistico. Non solo, ma hanno messo in piedi tutto un sistema di controllo mondiale che è il Moos. Per esempio, il Moos, non è un'arma difensiva, non è un radar come qualcuno ha scritto. È un'arma potenzialmente offensiva, cioè è un'arma essenziale per un colpo nucleare senza risposta. Perché guida i droni, no? Perché guiderà tutto il sistema difensivo. Nel momento in cui tu devi bloccare la risposta eventuale dell'avversario, tu devi essere in condizione di far partire tutti i missili nello stesso tempo, di far mettere in movimento tutte le forze strategiche di cui disponi, di far funzionare i satelliti che dovranno disturbare le comunicazioni dell'avversario. Cioè è un sistema di comando dell'offensiva militare strategica degli Stati Uniti. Questo è il vero problema. Per cui tutto quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi è la preparazione del sistema antimissile. Perché Trump adesso, cioè il Pentagono, decide di uscire dal trattato dei missili di media gittata? Ma perché loro vogliono mettere i missili di media gittata esattamente alle frontiere della Russia, lungo tutte le frontiere europee della Russia, in modo tale che i missili russi che dovessero partire per rispondere all'attacco e colpire gli Stati Uniti siano colpiti alla partenza, in un modo o nell'altro, o dai missili piazzati a terra, o dai sistemi satellitari sul controllo dall'alto, diciamo così, che disturberanno le traiettorie e li faranno cadere prima, o cento altri modi con cui... Quindi quello che sta succedendo in Ucraina, nei paesi baltici, in Romania, in Polonia, in Bulgaria, in Ungheria, tutti i tentativi della Nato di circondare la Russia o è errato? L'accerchiamento della Russia serve esattamente per questo scopo. E non si fa in due minuti. Ci vuole il suo tempo e loro hanno fatto i calcoli. Ci vorranno 5-6 anni per mettere a punto un sistema che ci garantisca, se non al 100%, di bloccare tutta la risposta russa in un modo rilevante. È vero, è ragionevole o non è ragionevole? Io ritengo che sia irragionevole, nel senso che, per esempio, rimarranno fuori dal controllo di questo sistema, per lo meno, allo stato attuale delle cose. Oggi, 2019, i missili insommergibili nucleari russi. Perché quelli saranno fuori dalla portata di un sistema antivissile, ma naturalmente di un sistema antivissile è quello che ho fino ad ora descritto. Ci saranno altri sistemi antivissili. Gli americani stanno pensando di poter individuare i sommergibili nucleari e affondarli tutti, per esempio. E con un sistema di rilevazione, probabilmente sviluppato proprio in questi anni, potrebbero riuscirci. Non per niente Putin l'anno scorso, nel discorso che ha fatto davanti alle Camere, ha detto che noi abbiamo delle armi che sono così veloci che non saranno, come dire, rintracciabili. Una domanda un po' inquietante, però mi sorge spontanea, Giulietto. Ma se il Presidente Putin decidesse per la prima volta nella storia della Russia che non ha mai attaccato nessuno, si è sempre difesa nella storia, ma decidesse di fare un attacco preventivo perché teme questo progetto militare contro di lui? Negli uni, negli altri, hanno la sicurezza di poter colpire. Ma noi sappiamo con certezza che la Russia non ha questo obiettivo, perché la Russia non ha i missili per fermare i missili americani. La Russia, come ha detto, ripetuto Putin, proprio pochi mesi fa, se voi ci attaccherete noi moriremo tutti come dei martiri, ma voi creperete senza neanche avere il tempo di pentirvi, cioè non ci sarà. Putin dice, e mette le mani avanti, non ci provate perché sarete colpiti e sarete distrutti anche voi. Questa è la follia della situazione, per cui c'è una parte sola che punta alla vittoria. Correndo dei rischi giganteschi perché tutto il mondo finirebbe, praticamente. Certo, però questi grandi padroni del mondo hanno dei grandi servizi di intelligence, hanno dei grandi informatori, riescono a infiltrarsi persino sicuramente anche nell'alta politica militare strategica della Russia. È possibile che loro non sono consapevoli che Putin ha la possibilità di distruggere anche loro che comandano? Loro hanno questi, pagano questi servizi segreti privati, militari che siano, per avere delle informazioni di prima mano sull'arsenale della Russia. Come possono pensare di vincere al cento per cento? Beh, le hanno entro certi limiti. Entro certi limiti, tu giustamente dici che le possibilità di penetrazione americana nel campo avversario russo sono rilevanti. È vero perché l'America ha anche la quinta colonna ed è una quinta colonna molto importante all'interno della Russia, su questo non c'è dubbio. E tuttavia non possono sapere con certezza tutto, non ci sono ancora riusciti per il momento. E soprattutto c'è un problema che qualche anno fa non esisteva. Ed è questo, che la Cina a sua volta è entrata in campo. C'è stata una fase immediatamente successiva alla prima elezione di Putin in cui gli Stati Uniti pensavano di liquidare la Russia separatamente. Cioè che Putin sarebbe stato messo in angolo, costretto ad andarsene, o a rinunciare, o a rinunciare. È durata fino all'anno 2008, 2008-2010, quando ci fu la conferenza di Monaco, quando Putin invece non solo rinunciò, ma rilanciò e disse di fronte a tutti i capi di Stato occidentali guardate che con noi questa politica non la potete fare, cioè noi non ritorniamo a essere una vostra colonia. E contemporaneamente a questo c'è stato il sorgere della Cina. La Cina è diventata il protagonista. Ora la Cina non ha ancora tutte le sue capacità strategiche in piedi. Secondo alcune valutazioni la Cina potrebbe colpire tutta la costa occidentale degli Stati Uniti, orientale degli Stati Uniti, ma non raggiungerebbe tutti i centri strategici degli Stati Uniti, però certo sarebbe in ogni caso anche a questo livello attuale sarebbe una gigantesca guerra che distruggerebbe metà degli Stati Uniti. Ma adesso la Cina sta procedendo ad altissima velocità in tutti i campi e con molta probabilità la Cina andrà sulla Luna, per esempio, metterà satelliti in giro per il sistema solare, ha ormai tecnologie e una potenza economica sterminata. Poi possiamo parlare anche del 5G. La Cina sta superando in molti punti gli Stati Uniti e procede comunque a una velocità che è quella due volte e mezzo degli Stati Uniti d'America, anche in termini di prodotto interno nord. C'è poco da dire, questo è un fatto, è una dimensione di scala. E da questo ecco qui l'elemento nuovo strategico che non è più il problema di liquidare la Russia separatamente, perché tra Russia e Cina ormai c'è un'intesa strategica molto forte, molto forte e non è pensabile che la Cina lasci fare questo trovandosi a essere poi sola e isolata a proteggere gli Stati Uniti. La Cina reagirà nel momento in cui ci fosse un attacco. Sarebbe molto probabile, assolutamente probabile, che la Cina non lo lasci fare. Quindi Cina e Russia costituiscono una nuova realtà anche insieme. E questa operazione che Xi Jinping ha lanciato, diciamo così, della nuova via della seta, una cintura, una via, una cintura, è la nascita di una nuova potenza eurasiatica che prima non esisteva. La scintilla continua ad essere, o potrebbe essere, o lo è il Medio Oriente, o il Medio Oriente è diventato, diciamo, sempre un problema eterno purtroppo tra arabi e israeliani, in realtà tra Palestina e Israele, perché gli arabi noi li vediamo molto più alleati con Israele che con i propri fratelli palestinesi. Lo scenario, diciamo, la scintilla potrebbe avvenire a scatenarsi sempre da lì, dove c'è la Siria, che comunque grazie alla Russia non è stata annientata o conquistata, oppure è un problema, tra virgolette, lo dico ovviamente, secondario, è diventato secondario. No, non è secondario perché tutta questa fase, sia cinque anni, sia dieci, insomma, qui possiamo valutare diversamente l'andamento delle cose, ma tutta questa fase sarà caratterizzata dal petrolio. Questa fase intermedia si gestisce e si gioca fondamentale con l'energia del petrolio e del gas. Quindi le questioni delle risorse energetiche sono vitali per questo discorso. È un discorso parallelo. Finora abbiamo parlato di potere in termini puri. Dominio è potere, però per far camminare le macchine, per far camminare l'industria, la fabbrica, eccetera, ci vuole il controllo delle risorse energetiche, ci vuole il controllo dei prezzi delle risorse energetiche e dei giacimenti fondamentali. Quindi è chiaro che il Medio Oriente e a questo punto anche il Venezuela, perché mettiamo tutto insieme, tutto il grande tema delle risorse della fase intermedia. Sempre il quarto produttore mondiale rimane il Venezuela di Petronio. È certo, quindi figuriamoci se è importante. Quindi il quadro fondamentale è parallelo. Il quadro energetico e il controllo delle risorse energetiche è parallelo. Però io non credo che sia necessariamente lì che scoppierà la scintilla. La scintilla può scoppiare in qualunque posto e soprattutto può scoppiare in qualunque posto perché il controllo sui sistemi di controllo viene, diventa sempre più labile. Cioè noi siamo di fronte, quando abbiamo parlato in altre occasioni anche con te, della complessità della crisi. Noi ci troviamo in una situazione in cui tutti i punti che costituiscono questa complessità sono in crisi. Per esempio quello della vulnerabilità dei sistemi di controllo. Cioè è facilissimo un errore, facilissimo. E diventa sempre più facile un errore. Quando Putin dice abbiamo qualche minuto per decidere. Chi decide in un minuto o due? Non so, vorrei che l'uomo della strada, come noi, quando ragione di queste cose, pensasse che se si crea una situazione imprevista, questi uomini che hanno il potere lassù in cima avranno pochi minuti di tempo per decidere. E quindi lo spazio dell'errore diventerà enorme. Queste sono società estremamente vulnerabili. Noi viviamo proprio sul filo, sul filo della esistenza, perché se succede qualche cosa come Fukushima, salta un intero paese, anzi probabilmente salta più di un intero paese, perché a Fukushima non sappiamo che cosa è accaduto. Siamo sicuri che ha capito soltanto il Giappone. È tutto quello che è successo nel mare, è tutto quello che è successo intorno al Giappone, è come si è trasmesso. Non lo sappiamo neppure, quindi noi dobbiamo sapere però che queste cose accadranno, e una è dietro l'altra. Per giunta c'è poi tutto il discorso climatico. Ieri sera parlavo con un esperto di queste questioni che conosce bene la situazione dell'Antartico e della Groenlandia. Ci sono interi continenti che si stanno sciogliendo sotto i nostri occhi e la previsione dell'aumento di 5-6 metri del livello del mare entro questo secolo diventa una certezza ormai. Cioè quando interi continenti, non so come dire, immagino un pezzo d'Europa che era ghiaccio e diventa mare. In una situazione del genere, quali sono i sistemi difensivi che abbiamo? I nostri eserciti non sono in grado di fronteggiare questi problemi. Non sono in grado perché non sono fatti per quello. Le armi di cui disponiamo possono distruggere, ma non possono sistemare uno squilibrio ecologico di quelle proporzioni. E quindi noi ci troveremo di fronte a società vulnerabili in cui milioni di uomini si muoveranno. Di fronte a noi non sta un mondo pacifico né nel senso sociale, perché le differenze diventano ormai abissali tra i ricchi e i poveri, ma anche nel senso fisico, materiale, l'equilibrio nel quale noi viviamo. Non tiene, non può tenere, perché noi stiamo costruendo una società che sta uscendo dai controlli. E quindi figuriamoci controlli militari. Per questa ragione quelli che stanno progettando la guerra hanno anche qualche interesse ad accelerare. fino a che possono controllare. Bisogna fare in fretta. E qui c'è un elemento che si vede nei comportamenti degli Stati Uniti, per esempio. Questo nervosismo crescente, questa volontà di accelerare, anche di fronte all'evidenza dei fatti tragici. Prendiamo ad esempio l'Ucraina. Sì. Lì si vede chiaramente che l'elemento di nervosismo ha prevalso su ogni altra cosa. Cioè l'elemento tattico. Mi serve, lo faccio. Il colpo di Stato poteva tranquillamente essere evitato. Non c'era bisogno di sangue, non c'era bisogno di nazisti, di settore destro. Basta aspettare un anno. Un anno, Yanukovic finiva il mandato, finiva tranquillamente sconfitto da elezioni pagate dagli americani e sarebbe avvenuto il cambio di regime facendo entrare l'Ucraina dove voleva, nella Nato, eccetera, eccetera, con un governo filoamericano. Perché hanno avuto fretta? Perché? Perché hanno fretta. Molto semplice. Hanno fretta di bruciare i tempi e questo crea delle situazioni sempre più drammatiche. Quanto incide il debito americano sulla fretta? I cosiddetti nemici dell'Occidente degli Stati Uniti, cioè la Cina e la Russia, poi c'è anche l'Iran, ma non la conto. In questo caso, questi nemicissimi sono quelli che tengono in piedi l'America. Paradossalmente? Paradossalmente, ma se ci pensi un minuto, è esattamente quello che sta accadendo. La Russia e la Cina si rendono conto perfettamente delle cose che io sto dicendo. Le cose che sto raccontando non sono dei misteri. per i cinesi e per i russi sono la realtà quotidiana. La conoscono perfettamente gli strateghi generali, i politici. Sanno. Qual è il loro scopo? È quello di ritardare il più possibile. La Cina ha 3 trilioni di dollari del debito americano. Se li mettesse in circolazione in poche settimane farebbe crollare il dollaro. Si indebolirebbe anche lei, ovviamente. Sì, ovviamente, certo. Provocherebbe un grande sconquasso dal quale uscirebbe uno scontro militare. Certo. Ascoltato. La Cina sta facendo esattamente il contrario. Sta cercando di rallentare. Certo. Quindi, se questo è il ragionamento, e anche la Russia lo sta facendo, gli uni e gli altri vogliono impedire che lo sconto diventi ravvicinato. Vogliono allentare la tensione. Entrambi pensano che l'America perderà. Certo. Nel loro calcolo, la Cina, nel calcolo di Xi Jinping, è evidente che la Cina sa di avere un respiro molto più lungo dell'Occidente. Certo. Sa che la crisi ha investito l'Occidente e che la crisi non dipende dalla Cina. È l'Occidente che è in crisi per conto proprio. Certo. Deriva dal suo sistema economico e dalla sua, ormai, sempre più labile capacità di controllo delle sue stesse popolazioni. Cosa che vediamo sotto i nostri occhi. Per cui, paradossalmente, Cina e Russia non hanno nessun interesse ad accelerare lo scontro e fanno di tutto perché non avvenga questo scontro. La fretta deriva da loro. Ho fatto l'esempio dell'Ucraina che per me è clamoroso, ma prendete il Venezuela. Sì. Perché? Perché organizzare il golpe contro Maduro? Perché fa saltare per avere il Venezuela adesso? Parentesi, secondo te, Guaidò è tutta questa parte politica strumentalizzata da forza esterna come gli Stati Uniti? Non c'è il minimo dubbio. È interamente nelle mani. Guaidò è un'invenzione dei servizi segreti americani, sempre che si possa parlare di servizi segreti americani e non di un pezzo dell'America, perché questo è tutto un altro discorso che ha a che fare con la crisi dell'America. Sì. Cioè, in crisi interna non c'è più un unico potere. C'è uno scontro furibondo all'ultimo sangue che forse finirà nel sangue tra pezzi di America. Da un lato Trump, dall'altro lato il cosiddetto di P6, eccetera, eccetera, cioè il partito democratico, eccetera, eccetera, tutto quello che un tempo veniva di chi ha considerato la democrazia libera americana. È tutta contro Trump. Con questo stiamo dicendo che c'è un conflitto interno agli Stati Uniti d'America che non succedeva da tanti anni. Non c'è mai stato. Forse non c'è mai stato. Non credo che ci sia mai stato un tale conflitto. Di fatto, cito Gore Vidal, grandissimo interprete dell'America degli anni, dei primi anni del secolo scorso, lui ha sempre detto e ha ragione, io considero molto convincente la sua tesi, che in America non c'è mai stato un vero scontro. L'elite è sempre stata una sola. Si dava una certa città tra repubblicani e democrazia, ma è sempre stata un'elite molto stretta che ha governato il paese senza nessuna democrazia sostanziale. Quello che sta accadendo oggi non ha precedenti. È una spaccatura dentro lo Stato americano. È una spaccatura che mette in discussione i fondamenti dell'America. perfino la Costituzione americana non è più in grado di reggere perché c'è un pezzo dello Stato che la viola in ogni momento. Da due anni, dalle elezioni di Trump, noi assistiamo a una serie di piccoli, ripetuti colpi di Stato che fanno saltare per aria l'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati Uniti. Quindi, non è un elemento di superficie. Questo a prescindere se uno è d'accordo o no con Trump. Non importa, non importa. Io sto parlando di una lotta obiettiva. Guardo dall'esterno e vedo che questa è una lotta per la vita e per la morte di due pezzi dell'America che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Certo. E una parte di questi sostiene gente come Guaidò e altri personaggi di questo. Non so, una parte di questi. La cosa paradossale è che una parte di questi sono anche alleati di Trump. Cioè, Pompeo, che cos'è, il segretario di Stato non è mica un avversario. Sta dentro l'amministrazione. Bolton, chi è? Il capo della sicurezza nazionale. Sta dentro l'amministrazione di Bolton, di Trump. Di Trump. Quindi, noi siamo di fronte a una situazione molto complicata di cui è difficile vedere lo scopo. Ma è certo che Guaidò è un oggetto è un oggetto di loro. Anche qui. Perché tutta questa fretta? C'era proprio bisogno di passare adesso all'offensiva? No, loro hanno un'urgenza di prendere tutto il potere delle loro mani. E c'è anche un elemento di vera e propria follia. Follia, cioè, quando, la follia è quando la tua volontà di potere e di arricchimento supera la logica elementare della gestione dei rapporti tra gli stati. c'è saltata tutta è saltata tutta la mediazione giuridico istituzionale della comunità internazionale. Quando il presidente Trump ripetutamente prende decisioni americane e le vende al resto del mondo come se fossero decisioni mondiali c'è qualche cosa di anomalo che sta succedendo. quando il presidente Trump qui sto parlando di Trump decide che la capitale di Israele si trasferisce da Tel Aviv a Gerusalemme prende una decisione mondiale qual è il potere chi è che gli ha dato istituzionalmente questo potere non è mica le Nazioni Unite almeno se fosse la copertura delle Nazioni Unite potremmo ancora discutere no qui è il presidente degli Stati Uniti che emette un ordine oppure quando il presidente degli Stati Uniti emette un ordine nei nostri confronti parlo di noi italiani e ci dice che lo poiché lui ha deciso che noi non possiamo più comprare petrolio dall'Iran se noi compriremo petrolio lui ci sottoporrà sanzioni cioè ci punirà cioè la sua legge si erge al di sopra della legge del mondo intero questi sono tutti i segni perché considerano il nostro territorio un suo territorio e 20 ci considera come una colonia giustamente perché ci siamo comportati come tali e ci considera come una colonia ma quando il presidente degli Stati Uniti come ha fatto nel dicembre se non sbaglio nel dicembre dell'anno scorso emette un ordine presidenziale concepito in questi termini tutti coloro che si macchieranno del reato di corruzione saranno punibili con la legge americana si riferisce al mondo intero che vuol dire che il capo di un certo governo fino ad ora l'abbiamo esercitato nei confronti dei paesi che non si potevano difendere tipo Gheddafi tipo Saddam Hussein e questi li abbiamo distrutti non gli ha funzionato con Bashar al Assad ma comunque il tentativo è sempre quella in Sudan l'hanno fatto in Somalia l'hanno fatto quindi un capo di Stato che non obbedisca al presidente degli Stati Uniti d'America è passibile di arresto di prelevamento di trasferimento in una prigione americana o come una Guantanamo opportuna è sottoposta al giudizio dell'America non c'è un elemento in questo di completamente folle noi siamo in una situazione in cui come giustamente ha detto Putin tutte le regole della comunità internazionale sono state cancellate perché questa fretta? secondo me c'è una spiegazione psicologica quale? le elite politiche americane non sono in grado di accettare una situazione in cui non saranno dominatrici assolute loro vogliono imporre e pensano di poter imporre nonostante la realtà ma qui viene diciamo il carattere demenziale di questa linea è che non lo possono fare non lo possono più fare continuano a farlo come una specie di coazione a ripetere sempre più sfrenata come quando uno ha perso il controllo a tentativi per tentativi uno sopra l'altro che vengono continuamente in paglia alcuni casi naturalmente fanno paura certo che fanno paura perché gli Stati Uniti sono in grado di punire cioè adesso è una questione che riguarda noi direttamente noi abbiamo un governo x y non lasciamo perdere non definiamolo ci andremo adesso abbiamo un certo governo e questo governo si sente imporre una decisione che è contro gli interessi nazionali che fa questo governo accetterà probabilmente accetterà perché ma perché le reazioni staranno feroci furibonde se non lo facesse né Salvini né Di Maio potrebbero essere sicuri del loro destino lo dico proprio così quelli che io ho usato sono esempi che dimostrano una fretta insensata quindi sono elementi patologici che emergono in superficie che dicono che siamo di fronte a delle decisioni non meditate non corrispondenti a un'analisi politica dei rapporti di forza frenetiche e logico che si tratta di un'analisi politica che si tratta di un'analisi politica di forza che si tratta